Allora ragazzi, sono in piazza Forlì, perché è passato praticamente un anno dall'alluvione e in piazza Forlì oggi c'è una tenda dei ministri volontari, tenda gialla, un attimo che sto guardando in giro se mi buttano sotto, anche se è zona pedonale. Comunque, tenda gialla dei ministri volontari che hanno dato incredibilmente una mano l'anno scorso a togliere il fango, a sistemare dentro casa della gente tutto quello che era andato in spacelo. Io purtroppo l'anno scorso non ero qua, ero in Danimarca e non sono riuscito a stare in Romagna ad aiutare, ma almeno, intanto dietro di me potete vedere San Mercuriale, comunque dicevo almeno ci tengo a parlare di questa cosa, perché è stata una cosa che, anche se io ero in Danimarca, l'alluvione ovviamente l'ho sentita tanto perché io, per fortuna, a casa mia si è salvata, ma a meno di un chilometro da casa mia c'era il disastro. Quindi, siccome non sono stati tutti fortunati come me e siccome penso che bisogna anche dare riconoscimento ai tanti di quelli che hanno aiutato, loro sono alcuni di questi, non sono gli unici ovviamente, però insomma vi volevo far vedere un attimino di che cosa si tratta. Allora, le azioni che sono state fatte per aiutare la città di Forlì sono tantissime, Matteo, perché tu devi considerare che il fiume Montone, in due quartieri in particolare della città, che sono il quartiere Cava e il quartiere Romiti, ha esondato ed è arrivato all'altezza di ben 7 metri raggiungendo i secondi piani delle abitazioni. Ma lì avevano esondato 28 fiumi, mi sembra. Allora, in tutta la Romagna sono esondati 24 fiumi. 24. Però nella città di Forlì è esondato il Montone che è comunque un fiume molto, molto grande. Quindi per raggiungere i secondi piani delle abitazioni puoi capire che c'era uno scenario veramente da guerra. Eravamo lì a lavorare con la protezione civile che era arrivata da tutte le parti d'Italia, con l'esercito, con i vigili del fuoco. E quello che abbiamo fatto è stato mettere in campo tutti i mezzi che avevamo a disposizione, tipo camion, bobcat, scavatori e tante braccia, tante braccia volenterose di aiutare. Chiaro, ma quanti eravate più o meno a dare una mano? Sono venuti da tutta l'Italia? Sono arrivati da tutta l'Italia. Ci sono stati 140 ministri volontari della chiesa di Scientology che hanno raggiunto la città di Forlì. Feci anche una live dove, mentre ero in Danimarca, dove facevo vedere quello che era successo a Forlì. Io quando ho visto Porta Schiavonia, che non l'ho riconosciuta, il momento che l'ho riconosciuta sono rimasto paralizzato 10 minuti. Lì voi avete fatto qualcosa? Abbiamo lavorato proprio al di là del ponte da Porta Schiavonia, perché eravamo appunto sul quartiere Romiti. Proprio nelle vie, non so se l'avete visto dai ternelli giornali, nelle vie Locchi, Cormons, dove c'era anche la strada che è collassata sotto il peso dell'acqua. Noi eravamo proprio in quelle vie lì a lavorare. Abbiamo aiutato, come ti dicevo, nel rimuovere fango, macerie, acqua e quant'altro, ma aiutando anche la popolazione che era completamente sotto shock a riprendersi. E questo per 3 settimane, 20 giorni, quella che è stata l'emergenza vera e propria. Ma poi dopo abbiamo continuato a lavorare per mesi, Matteo, perché la popolazione aveva bisogno di ricostruire tutto quello che era andato perso. Certo, e lì, vabbè, voi eravate praticamente, cosa facevate? Sgombro di cantine, pulivate il fango? Questo è stato fatto nelle primissime settimane post-emergenza. Poi, dopodiché, c'era da ricostruire. Quindi siamo andati a bussare alle aziende a dire, ragazzi, la situazione è questa. Abbiamo bisogno di calcestruzzo, pittura per ricostruire le abitazioni. C'è bisogno di cibo, c'è bisogno di beni di prima necessità. Abbiamo trovato mobili, montato, ripitturato case, abbiamo fatto di tutto e di più. E col comune di Forlì adesso, cioè vedo perché voi qui ovviamente avete lo spazio oggi e quindi presuppongo che ci siano anche dei buoni rapporti col comune di Forlì per avere lo spazio qui perché io, ragazzi, ho fatto tante bancarelle in giro, facevo i mercati una volta e avere uno spazio qui a Forlì non è proprio semplice. No, noi abbiamo lavorato fianco a fianco con le autorità locali durante l'alluvione, sia con la protezione civile ma anche proprio assessori, geometri comunali che ormai ci conoscono, ci vogliono bene e ci ringraziano per tutto quello che abbiamo fatto. Quindi ottenere la tenda dei ministri volontari qui è stato facile. Bene, bene, guarda, io vi ringrazio infinitamente a nome mio e a nome, penso, di tutti quelli che avete aiutato a Forlì e della città di Forlì. Prima di concludere vorrei chiederti una cosa, com'è che uno può fare se vuole darvi una mano? Assolutamente, basta contattarci, se vuoi puoi mettere il nostro sito, ti posso lasciare il mio numero di telefono, lo vediamo sovraimpressione. Va bene. E potete chiamarci in qualsiasi momento, anche se avete necessità. Bene, perfetto, grazie mille, grazie mille, ciao. Bene ragazzi, allora qui la situazione è conclusa, loro hanno dato veramente una grandissima mano con tutto quello che è successo, bisogna dargliene atto assolutamente, quindi per oggi è tutto e basta, finisco qui di fare giornalista ragazzi, ciao a tutti quanti.